Alcuni tra voi hanno chiesto in passato perché è importante studiare la storia. Beh, posso darvi una risposta semplice, perché studiare il passato, ciò che è avvenuto, ci offre una chiave di lettura non solo per appunto ciò che è arrivato prima di noi, ma anche per capire l'attualità e a volte per immaginare cosa potrebbe accadere nel futuro. Perché l'umanità ha questo brutto difetto, quello di ripetere sempre gli stessi errori e di ripercorrere le stesse strade. Guardate il Medioriete, guardate quello che sta avvenendo proprio in questi giorni, il massacro a Gaza, prima ancora l'attacco di Hamas, la crisi nel Mar Rosso dovuta agli attacchi che arrivano dallo Yemen, il ruolo dell'Iran. Ecco, l'Iran ce ne siamo già occupati in passato, ma dopo il tentativo di bombardamento di Israele, un tentativo non andato a buon fine, grazie all'intervento dell'antiaerea israeliana e dell'aiuto arrivato dagli alleati della zona e non solo, ci si aspetta una replica, un controbombardamento da parte sempre degli israeliani contro l'Iran. Israele ha già autorizzato in passato operazioni sul suolo straniero, a volte a carattere preventivo, e allora riguardando ciò che è avvenuto nel passato potremmo forse capire cosa potrebbe avvenire in futuro. Questa è una storia che sembra fantapolitica, che sembra qualcosa uscito da un romanzo, ma è estremamente vera. È la storia di come un pericoloso, bellicoso vicino di Israele, non esattamente confidante, ma compreso nella stessa area geografica e geopolitica, arrivò molto molto vicino a ottenere l'arma definitiva, l'arma atomica. Questa è la storia di come Israele impedì che un simile disegno arrivasse a combimento. Questa è la storia di un'operazione, un'operazione chiamata Babilonia o Opera, alla francese, e capirete il perché. Questa è la storia di un reattore nucleare chiamato Osirak. Siamo all'inizio degli anni Ottanta. L'Iraq di Saddam Hussein è impegnato in una guerra di logoramento devastante contro il vicino iraniano. È una guerra che lo stesso Saddam ha scatenato, pensato di approfittare del periodo di caos in cui era precipitato il suo vicino. L'Iran, fino alla rivoluzione, fino alla caduta dello Shah, suo esilio, ne abbiamo parlato in un video apposito e trovata nel canale, era il gendarme armato degli Stati Uniti nella zona del Golfo Persico. Era un vero e proprio arsenale armato con le ultime tecnologie militari americane, con una presenza americana in base nella zona, volto a svolgere ruole sia di deterrente nei confronti del vicino settentrionale, cioè l'Unione Sovietica, che a controllare un'area strategica, quella del transito delle petroliere. Ma la rivoluzione cambia tutto. Non è solo per la cacciata dello Shah, uno Shah comunque morente di cancro. E' a causa del nuovo regime politico, un regime che non solo si pone in completa antitesi col passato, ma guarda all'Occidente come un nemico. Il nemico non è solo a nord, non è solo o solamente l'Unione Sovietica, l'ateismo sovietico dell'epoca. Il nemico è Occidente, è l'Occidente vero e proprio con la O maiuscola. E quindi proprio quell'Occidente, convinto o meno, decide di finanziare sempre di più e di armare sempre di più l'Iraq. Quel d'Iraq che è il vicino geografico più prossimo all'Iran, nell'area araba, e che ha motivi di rivalza nei confronti dell'Iran. Motivi che poggiano sullo Shah al-Arab, lo stretto, la zona della foce dei fiumi Tigri e Ufrate, una zona ricca di petrolio, una zona contesa tra i due stati da parecchio tempo. Saddam Hussein pensa di approfittare del caos scatuito dalla rivoluzione, una rivoluzione che divora i propri figli come crono, per attaccare l'Iran. Pensa che le forze armate iraniane siano così del caos da non riuscire a reagire di fronte a un attacco in massa e moderno. Si sbaglia. Quell'attacco iniziale produrrà una guerra lunga otto anni e che finirà con uno stallo. Ma Saddam non può saperlo, questo. Saddam invece sa che vincere, stravincere o condannarsi a un lungo logoramento con l'Iran cambia poco rispetto ai suoi piani, piani molto ambiziosi. Perché Saddam, dalla metà degli anni 70, ha deciso di diventare una figura leader nel mondo arabo. Leader non solo a livello politico, prendendo il posto che fu di Nasser e che è sostanzialmente vacante dopo che Re Hussein di Giordania ha cambiato strategia, che a Damasco Assad ha varato un'altra via rispetto al socialismo arabo, che il Libano è sostanzialmente esploso nella guerra civile e l'Arabia Saudita ha scelto di giocare in singolo la partita non solo energetica. Saddam vuole porsi come guida militare, come guida assoluta e per farlo, per riuscirci, ha bisogno tanto delle armi, armi di cui fa incetta, comprando ovunque, comprando sul mercato sovietico inizialmente, poi su quello americano, su quello francese, su quello inglese e quello italiano, ma anche a livello di tecnologie, compresa quella nucleare. Nel 1975 Saddam Hussein si reca in visita di Stato in Francia e durante quella visita di Stato ha la possibilità di osservare la tecnologia nucleare francese. È una tecnologia avanzata, ben studiata. I francesi, d'altronde, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, hanno perseguito una volontà autonoma di dotarsi di energia nucleare tanto per scopi civili, quindi l'alimentazione delle grandi città, quanto per scopi militari, con la realizzazione della forza di dissuasione nucleare e le portaerei che arriveranno in seguito a propulsione nucleare. Ecco, a Saddam interessano tutti e due gli strumenti, quello civile e quello militare. Ed è in quell'occasione, quando si reca in Francia, che Saddam ha la possibilità di dare un'occhiata da vicino a un reattore piccolo, a media potenza. È il reattore Osiride, un reattore semisperimentale. Gli viene mostrato durante un weekend in Provenza dall'allora primo ministro Jacques Chirac, il futuro presidente. All'epoca il presidente della Francia è Valéry Giscard d'Estaing. Chirac si dimostra molto amichevole nei confronti di Saddam, perché d'altronde Saddam è un ottimo cliente. Ha già fatto diversi ordinativi, ha comprato elicotteri, vuole comprare aerei Mirage, vuole comprare pezzi d'artiglieria. Insomma, bisogna trattarlo bene. Chirac era già stato ospite di Saddam, assieme a Valéry Giscard d'Estaing, nel settembre del 74. La visita di cortesia del 75 in Francia finisce con un accordo, un accordo franco-iracheno, sottoscritto il 18 novembre del 75. E cosa prevede? Prevede la fornitura di quel reattore, il reattore usiri dei piani di costruzione che la mete, più tutto il materiale necessario, affinché l'Iraq possa dotarsi, primo paese nell'area araba, di un piccolo reattore nucleare. Saddam dichiara urbi e torbi alla società francese, quindi a quella europea, di voler solo avviare una ricerca sperimentale per slegare il proprio paese dal monopolio del petrolio. Certo, l'Iraq il petrolio ce l'ha, ma il petrolio non è inter, prima o poi deve finire. E per farsi trovare pronto e trovare un'alternativa, Saddam punta sul nucleare. È la stessa strada che verrà battuta anni dopo dagli iraniani, ma quella è tutta un'altra storia. Restiamo concentrati su quel reattore usiride che gli iracheni ribattezzano Osirak, o meglio, lo chiamano in tanti modi. Inizialmente lo chiamano Tamut, poi ne prendono anche un altro, un secondo, il reattore ISIS, Tamut 2. Questi reattori, o meglio i loro piedi di costruzione, i materiali necessari, vengono spediti a Baghdad con una squadra di ingegneri nucleari francesi e con alcuni esperti in costruzioni di reattori, tra cui alcuni italiani. Vengono firmati i contratti d'appalto per la realizzazione di un centro di ricerca nucleare. Ma non ci vuole molto perché Saddam Hussein getti la maschera. Sì, l'energia nucleare è importante, può avere un ruolo nel futuro dell'Iraq, ma può anche servire a produrre armi. È quello il vero obiettivo di Saddam. Ottenere primo paese arabo in assoluto, l'arma atomica. Non importa che sia un'arma piccola, magari di livello tattico, l'importante è averla. Usarla contro l'Iran potrebbe essere un'idea. Usarla a titolo dimostrativo durante un test nel deserto potrebbe essere un'altra idea. Annunciare semplicemente al mondo di possedere un'arma nucleare come deterrente assoluto nei confronti di tutta l'area mediorientale potrebbe essere un'altra idea ancora. Quando sta che Saddam rompe gli indugi e mentre il centro di Osirac è ancora in costruzione, come detto, getta la maschera, non è un annuncio a sorpresa o meglio non lo è per tutti perché già da diverso tempo qualcuno segue molto da vicino il programma nucleare irachiano. Quel qualcuno è il Mossad, lo spianaggio estero israeliano. La firma di quel accordo tra la Francia e l'Iraq non è piaciuto in Israele perché si capisce subito che per quanto sia un reattore piuttosto modesto, appena 70 megawatt, comunque da quel reattore si potrebbe ricavare del materiale per almeno una bomba. Israele le bombe ce le ha, quelle nucleari, un po' prodotte in casa, un altro po' prodotte ottenendo del materiale dagli Stati Uniti. Non le ha mai formalmente denunciate. Tutti sanno che Israele ha la potenza nucleare, ma come avviene per il Pakistan e l'India, non si conosce esattamente il numero delle testate e della potenza. Israele detiene quelle armi come semplice deterrente. Le userebbe solo in caso di rischio di annientamento, ovviamente pensandoci bene, perché dal lancio di un'arte stata nucleare non si torna più indietro. Non è come qualunque altra dimostrazione di forza in cui prima o poi ci si può alzare dal tavolo e smettere di giocare. No, in quel caso si passa una linea, una linea di quelle storiche e definitive. Israele non ha intenzione di usare le bombe nucleari, ma non si fida se qualcuno della zona, soprattutto un regime sotto un dittatore, ambisce a ottenere la stessa tecnologia. Tutto ciò rappresenta un rischio per la sicurezza. Il Mossad, infatti, raccoglie informazioni e il 6 aprile del 1979 inizia a muoversi. La prima operazione del Mossad avviene in Francia, alla Sey-sur-Mer. Una piccola bomba viene posizionata all'interno di uno stabilimento per danneggiare la cisterna in acciaio destinata a contenere il nocciolo del reattore di Osira. È un primo segnale, avviso, rivolto ai francesi. Non vendete tecnologia nucleare agli iracheri. I francesi fanno spallucce, il contratto è valido, riparano i danni e si apprestano a spedire la cisterna in Iraq. Allora il Mossad passa alla seconda fase, la fase eliminazione. Prende di mira gli ingegneri nucleari, non quelli francesi. Sarebbe un atto di guerra? Meglio di no. Al lavoro a Osirac ci sono anche ingegneri libanesi ed egiziani. Ed è proprio un egiziano il primo a pagare con la vita. Yahya al-Meshad, si chiamava così, viene sgozzato nella notte fra il 13 e il 14 giugno del 1980 nella sua suite all'hotel Le Meridien di Parigi. Chi è stato? Ovviamente il Mossad, anche se non viene fatta alcuna rivendicazione, ma è chiaro che solo lo spionaggio estero-israeliano avrebbe avuto intenzione e volontà di colpire un simile bersaglio. Effettivamente è una squadra kid on, una squadra baionetta del Mossad a entrare in azione quella notte, penetrando nell'abitazione e recidendo la carotide allo scienziato egiziano. Altri ingegneri invece, quelli francesi, ricevono delle lettere, delle lettere minatorie, non andate in Iraq. Pensateci bene, pensate alle vostre famiglie, pensate a cosa vi potrebbe accadere, pensate al professor Al-Meshad e a quello che gli è successo. Così gli ingegneri cominciano ad aver paura, a non voler andare in Iraq. Sì, continueranno a lavorare, ma restano a casa. I progetti e le linee guida di costruzione verranno spediti per posta. Meglio così, meglio non correre rischi. Poi si arriva al conflitto, non tra Israele e l'Iraq, ma tra l'Iraq e l'Iran. Il 30 settembre del 1980 è passata appena una settimana da quando le truppe irachene hanno barcato il confine convinte di riuscire in una facile vittoria, ma scontrandosi contro le masse di giovani fanatici imbottiti di territorio che si lanciano contro l'afanteria e contro i carri armati. Il 30 settembre del 1980 arriva la prima reazione iraniana. Sono due caccia-phantom forniti dagli americani all'epoca dello Shah, appartenenti alla forza aerea iraniana, che eludono i radar grazie ai dispositivi di guerra elettronica a bordo e sganciano 12 bombe proprio su Osirac. Il reattore è ancora in costruzione, materiale fissile non c'è. Il bombardamento è rapido e provoca pochi danni. Si tratta anche di uno dei primi esempi di un attacco contro un sito nucleare, per quanto non operativo, è ancora in costruzione. È un segnale che l'Iran vuol mandare. Siamo in grado di colpire quando vogliamo. Un obiettivo decisamente sensibile. Certo, un conto è colpire un cantiere, un altro conto è colpire un reattore in piena efficienza e in funzionamento. In quest'ultimo caso si rischierebbe la catastrofe. Non siamo ancora ai giorni di Chernobyl, non siamo ancora ai giorni di Fukushima, ma tutti sanno che colpire un reattore in funzione potrebbe provocare la fuoriuscita di materiale radioattivo e mortale. Lo sanno anche gli israeliani che dopo aver visto all'opera gli iraniani deciderò anche loro di mettere in opera un bombardamento Mirah prima che il materiale fissile arrivi, prima che Osirak entri in funzione. È un bombardamento studiato nei minimi dettagli. Tanto per dirne una, gli israeliani non lasciano nulla al caso. Tra i pochi tecnici francesi che sono andati in Iraq a lavorare gli israeliani sono riusciti a convincerne uno a collaborare. Questa spia perché di spia si può ben parlare fornisce tutti quanti i piani di costruzione, fornisce i turni di sorveglianza e informazioni ulteriori. La spia si chiama Damien Shaspi ha solo 25 anni, agisce un po' per convinzione perché non si fida degli iracheni e un po' per denaro. Lavora ufficialmente per la Early Kid e la SEA. In realtà lavora anche per il Mossad ed è il Mossad a fornirgli alla fine del maggio del 1981 un transponder. Sì, una di quelle scattolette che servono come punto di riferimento per il radar, il radar d'attacco. A Shaspi viene detto chiaramente di posizionare il transponder vicino alla zona critica del gantiere. Il reattore non è ancora operativo, mancano le ultime coperture e il collaudo e manca ovviamente il materiale fissile. Non si può attendere troppo perché secondo le informazioni raccolte da Shaspi e passate al Mossad entro il successivo settembre Osirac entrerà in funzione. Bisogna agire. Shaspi fornisce tutto e ottiene il transponder. Gli viene anche detto di accendere la mattina del 7 giugno del 1981 e gli viene intimato dopo averlo acceso di scappare il più forte possibile. Dovrà andarsene lontano non solo da Osirac dall'Iraq da ovunque farsi una nuova vita perché è chiaro che gli iracheni sospetteranno di lui ma Damien Shaspi muore il 7 giugno del 1981 a ucciderlo sono le bombe israeliane. Quella mattina all'alba una grossa formazione quello che in gengo si chiama gorilla 8 cacciant bombardieri F-16 e 6 F-15 strike eagle di scorta arriva nel cielo dell'Iraq sono tutti aerei con la stella di David sulle ali e sulla coda come hanno fatto ad arrivare da Israele fino all'Iraq eludendo il controllo della Giordania e anche dell'Arabia Saudita erano d'accordo i piani rivelano che no non lo sapeva nessuno non lo sapevano nemmeno gli americani americani che non approvavano un intervento diretto degli israeliani in zona e non solo perché in quel periodo l'America supportava Saddam Hussein ma gli israeliani nel corso di alcune riunioni del gabinetto ristretto avevano deciso di intervenire l'unico contrario fino alla sua rivoluzione del gabinetto era stato Moshe Dayan il vecchio generale non voleva un intervento diretto meglio un'operazione sporca di un bombardamento in piena regola una volta rimosso l'ostacolo Dayan Menahem Behin il primo ministro e Ariel Sharon si erano dichiarati favorevoli all'operazione un'operazione studata nei minimi dettagli gli aerei israeliani partiti da una base nel deserto del Negev volano sul deserto a bassa quota molto vicini gli uni agli altri quasi a rischio di collisione questo serve a sporcare la traccia radar a far credere agli operatori giordani e sauditi che si tratti di un solo aereo magari un grosso aereo da trasporto e giusto per evitare brutte sorprese i piloti vengono addestrati a comunicare in lingua araba e cosa comunicano non nel piano di volo comunicano di essere un aereo giordano o egiziano o saudita che si è perso ha perso la rotta chiede informazioni alla torre di controllo promette di atterrare prima possibile appena troverà una soluzione ideale giordani e sauditi udendo quelle parole si rassicurano non ci tenete a temere d'altronde se non c'è un piano d'attacco se è un aereo solo ed è un aereo a trasporto che male c'è succede ogni tanto che volando sopra il deserto qualcuno si perda tutto normale ed è così che quel gorilla quella flotta aerea arriva su Osirah gli iracheni danno l'allarme ma è troppo tardi le bombe piovono sul cantiere e lo devastano distruggono tutto distruggono il sito del reattore distruggono le cisterne le pareti i generatori tutto dopo il passaggio degli aerei israeliani che dura pochi minuti restano delle rovine fumanti restano anche 10 militari iracheni sul terreno tutti uomini di guardia e quell'ingegnere francese Damien Chaspier che non ha fatto in tempo a togliersi di torno a scappare forse trattenuto proprio dalle guardie irachene al cancello l'operazione è un successo i 14 aerei israeliani tornano tutti alla base senza neanche un graffio Israele ammette la propria responsabilità dichiara al mondo di aver voluto colpire Osirak come un elemento di estremo rischio per la propria esistenza e per tutta la regione medio orientale le dichiarazioni di sdegno sono numerose in quel periodo ma si spengono ben presto c'è altro a cui pensare c'è la guerra Iran-Iraq ma c'è anche molto altro molto altro materiale caldo in tutto il mondo sono gli anni 80 d'altrove di Osirak si parlerà ancora durante la guerra del golfo quando durante l'operazione Desert Storm aerei americani andranno a colpire ciò che resta di Osirak che in parte era stato ricostruito ma senza avere più la possibilità di operare come reattore nucleare si distrugge tutto alcuni dicono per cancellare le prove altri per togliere per sempre la capacità nucleare a Saddam Hussein tutto ciò cozzerà diversi anni dopo nel 2003 con le famose prove fantasma di Colin Powell sul programma di riarmo iracheno sui laboratori nascosti sullo stato canaglia sulle armi proibite ma quella è un'altra storia con cui oggi possiamo pensare gli israeliani nella loro volontà di offrire una risposta dura militare contro l'Iran replicheranno Osirak avranno voglia di colpire i siti nucleari iraniani che sono però in funzione magari andranno a colpire non tanto i reattori quanto gli impianti vicini le centrifughe le vasche i generatori oppure sarà un'operazione più mirata più sottile meno eclatante o ancora si punterà a colpire qualcosa di diverso magari i termini al petroliferi dei petroliere le raffinerie per mettere in ginocchio almeno per un po' l'industria del petrolio iraniana è l'interrogativo che ci poniamo tutti mentre guardiamo quello che avviene in Medio Oriente anzi quello che una volta veniva chiamato il vicino Oriente con paura eravamo impauriti due anni fa quando iniziò l'invasione dell'Ucraina siamo ancora più impauriti oggi perché i conflitti non nascono mai da soli e quando iniziano a punteggiare la mappa geografica non si tratta di una partita a risico si tratta dell'innalzamento del livello di rischio e con quel famoso orologio simbolico di cui abbiamo già parlato il doomsday clock l'orologio del giorno del giudizio che è settato a pochi secondi dalla mezzanotte beh non possiamo permetterci troppe incertezze e nemmeno troppe certezze a pochi secondi